buona giornata amici da massimo foghetti siamo di nuovo qui questa mattina pronti per la nostra rassegna stampa dopo quanto accaduto veramente ieri una giornata eccezionale non solo per Fano ma per tutte le marche un terremoto così veramente non si era mai sentito la notizia ha fatto il giro di tutti i mass media nazionali proprio partendo qui da Fano TV dove l'evento è stato commentato e trasmesso in diretta oggi è giovedì 10 novembre 2022 evidentemente parleremo diffusamente di quanto è avvenuto ieri dicendo subito che siamo stati fortunati grazie appunto alla buona stella non si sono verificati né decessi e né danni particolarmente ingenti qualcosa ovviamente è accaduto ma quello che voglio evidenziare questa mattina è un fatto che sa di un qualcosa di eccezionale ebbene nelle messe di ieri c'era un salmo che diceva qualcosa che lasciava presagire una premonizione una premonizione dunque il salmo diceva proprio così mi diamo un attimo se riesco a ritrovarlo me l'ha segnalato un collega giornalista il salmo diceva Dio è per noi rifugio e fortezza era la messa di ieri 9 novembre Dio è per noi rifugio e fortezza aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce perciò non temiamo se trema la terra se vacillano i monti nel fondo del mare non temiamo se trema la terra ieri la terra ha tremato e guarda caso il terremoto è venuto dal mare e proprio ieri il salmo diceva se vacillano i monti nel fondo del mare è stata veramente una cosa particolare nel giorno in cui si è verificato il terremoto e beh forse questo ci farà riflettere un pochino ma noi siamo qui pronti per relazionarvi per quanto è avvenuto intanto partiamo dall'almanacco e vediamo che oggi si festeggia san leone magno un grande papa magno lo dice di per se stesso visse l'epoca del tramonto dell'impero romano e la via dell'epoca cristiana eletto papa dopo la morte di Sisto III fu detto magno per il modo in cui difese l'ortodossia dagli eretici ma soprattutto l'episodio più famoso è quello dell'arresto delle orde di Attila che scendevano giù nell'Italia devastando tutta la penisola ebbene papa leone magno non esitò ad andare a incontro al capo uno e nel nome della croce a fermarlo in modo che poi lui con il suo esercio con il suo ordine se ne tornasse nei paesi da cui era venuto san leone magno oggi il tempo sarà di nuovo buono e quindi passiamo alla grafica per dare qualche spunto alle previsioni del tempo vediamo che il tempo si mantiene buono ma le nubi sono in progressivo aumento con ne deboli piogge nel pomeriggio con intensificazione in serata per rovesci anche a carattere temporalesco i venti saranno moderati il mare poco mosso le temperature si aggireranno tra i 13 e i 18 gradi insomma comincia a diventare un po' più freddo ed ora veramente apriamo i giornali per vedere come la stampa riporta quanto è avvenuto nella giornata di ieri partiamo dal resto del Carlino La grande paura, la grande paura così si intitola perché è stato veramente questo l'effetto che ha determinato la scossa che si è verificata ieri alle 7.07 appunto del mattino un terremoto che si è verificato a 28 chilometri dalla costa a largo di Fano tra Pesaro e Fano a 8 chilometri di profondità con una intensità di 5,6, 5,7 che appunto varia a seconda delle rilevazioni vediamo i titoli, la grande paura, terremoto alle 7, danni e sfollati la madonnina dei capocini a Pesaro diventa il simbolo di quanto è avvenuto e questa è la foto della madonnina dalla quale sono cadute le parti posteriori del capo c'era un'aureola e appunto la parte terminale della testa risveglio con tre scosse in rapida successione la più forte di magnitudo 5,5, l'epicentro davanti alla nostra costa la gente si riversa in strada lesionata alla pieve di Candelara, Macerie nella chiesa di Roncosambaccio a Fano e questa è un po' la notizia del giorno poi ovviamente ce ne sono altre qui abbiamo un lutto che viene richiamato a fondo pagina muore a 30 anni, si era sposata tre giorni prima la tragedia di Mara Angelini il marito ovviamente non riesco a crederci un fatto veramente terribile e poi controlli nelle case del centro evacuate quattro famiglie in merito al terremoto qualche lesione si è verificata nelle case mentre a Fano scuole chiuse anche oggi anche oggi i ragazzi faranno festa apriamo le pagine intorno al terremoto diamo un'occhiata a diversi titoli sono diverse le pagine che parlano dell'evento terremoto, una sveglia di paura danni e famiglie evacuate due scosse dopo le sette la gente in strada non finiva mai hanno dichiarato gli sfollati sono tra via Branca e via Varese centinaia di controlli negli edifici è l'evento sismico tra i più forti dopo il 1930 della nostra provincia veramente una scossa simile non si era mai avvertita arrivare a 5.5.56 alcuni dicono anche a 5.7 è un evento eccezionale nelle nostre parti per fortuna possiamo dire un evento simile non si era mai verificato dal noto terremoto del 1930 che è stato molto più devastante e qua si richiama la Madonnina dei Capuccini che ha subito una ferita tra virgolette è l'immagine simbolo di quanto è avvenuto nella giornata di ieri chiusa poi la pieve di Candelara danni gravissimi alla chiesa di Roncosambaccio dove è crollato parte del tetto il parroco senza aiuti dice non ne riapriamo più altri danni si sono verificati nella pieve di Santo Stefano a Candelara è stata chiusa dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco sono caduti dei calcinacci il terremoto ha danneggiato quattro travi appunto del soffitto chiusa anche la chiesa di Sant'Anastasio dicevamo di Roncosambaccio a Fano il parroco Don Gianni dichiara sono crollati il soffitto i lampadari i candelabri i danni sono veramente tanti siamo costretti a chiudere e non sappiamo quando e se potremo riaprire mancano le risorse economiche ma io sono sicuro che qualcuno arriverà in aiuto se non la provvidenza e qua vediamo le foto significative dei crolli che si sono verificate questo è il pezzo della statua della Madonna che è crollata a Pesaro la Madonnina dei Capuccini qua abbiamo le rovine della chiesa di Roncosambaccio e in quest'altra foto l'interno della seicentesca chiesa appunto di questo paese nelle colline tra Pesaro e Fano giriamo la pagina lo sciame sismico può proseguire parla l'esperto si tratta del sismologo Emanuele Tondi in questa zona la magnitudo massima può arrivare intorno ai 6 gradi lo tsunami può succedere ma è molto raro eventualmente se accade sono piccole onde che si infrangono poi sulla costa potrebbero arrivare onde modeste ha dichiarato Tondi la distanza dalla costa ha attenuato molto gli effetti di questa scossa non è stato questa volta il terremoto preceduto dai foreshocks che sono quelle scosse che arrivano prima di quella principale quindi non c'è stato alcun avvertimento la scossa è arrivata all'improvviso svegliando molte persone che in quel momento appunto aprivano gli occhi dopo la notte passata a dormire cominciavano la giornata ed è stato un brusco risveglio molta gente è uscita di casa e proprio si è precipitata sulle strade così come si trovava magari con la vestaglia o con il pigiama l'importante era uscire in fretta scuole ora parliamo di scuole l'esame sisma è superato non si sono verificati danni strutturali agli edifici scolastici i sindaci in ordine sparso oggi si torna sui banchi a Vallefoglia a Marotta a Gradara e Tavuglia qui i controlli sono stati completati nelle altre località invece ci sono ancora scuole chiuse perché i controlli ancora procedono e prima di aprire le scuole si vuole essere sicuri che nessun edificio è stato lesionato sopralluogo negli edifici Roberto Rossini che è un po' il capo dei presidi dice giusta cautela quella che è stata usata Villa Caprile a Retto dunque diamo un'occhiata meglio a questo articolo firmato da Solidea Vitali Rosati oggi riapriranno normalmente le scuole a Mondolfo Marotta a Vallefoglia a Gradara a Tavuglia a Lunano il sindaco Mauro Dini le ha lasciate aperte anche ieri perché questa diversità perché ad orientare i sindaci è l'esito delle ricognizioni negli edifici scolastici che per numero e caratteristiche strutturali possono variare da comune a comune quindi c'è stata una diversità di provvedimenti confermano dunque la riapertura delle scuole per assenza di criticità il sindaco Cinzia Ferri a Montelabate il sindaco Filippo Gasperi a Gradara il sindaco Francesca Paolucci a Tavuglia naturalmente se non ci sono novità dell'ultimo minuto ma al momento non abbiamo notizie di questo quindi le scuole in questo caso vengono riaperte invece è così il sindaco di Marotta Nicola Barbieri e poi invece rimangono chiuse le scuole di Fano dove le scuole sono tante e quindi i controlli procedono fino ad oggi non sono state rilevate criticità quindi credo che domani non ci saranno problemi per riprendere le lezioni ospedale evacuate alcune aree traumi e panico in pronto soccorso i cittadini si presentano a Pesaro e Fano con palpitazioni e piccole ferite provocate dalla fuga scomposta qualcuno magari per fuggire subito per abbandonare il proprio appartamento ha inciampato è caduto si è fatto male altri invece hanno avvertito delle palpitazioni degli stati d'ansia per il terremoto e quindi per sicurezza si sono fatti controllare al pronto soccorso l'Azur monitora Galantara e i distretti a Santa Colomba una ventina di operatori alzano dal letto 140 ospiti e si sono verificati anche a Fano le strutture di accoglienza del comune come la casa di riposo Don Tonucci oppure il CTL di San Lazzaro che ospitano le persone più fragili dunque anche qui però non si sono rilevati problemi invece pare che sia stata evidenziata una crepa nel primo piano dell'edificio della sede municipale di via San Francesco a Fano e quindi il primo piano del comune rimane chiuso mentre gli altri aspetti gli altri piani dell'edificio vengono aperti l'anagrafe quindi questa mattina dovrebbe funzionare nessun danno ma scuole ancora chiuse meglio essere prudenti con Ricci a Bruxelles e a Bruxelles c'era anche il sindaco Seri nella giornata di ieri tanto che le redini di tutta l'organizzazione è stata presa dal vice sindaco Cristian Fanesi anche il vice sindaco Vimini ha preso in mano la situazione ecco tutto è stato gestito dai due vice sindaci sia di Fano che di Pesaro e poi in quest'altra pagina invece abbiamo le notizie che ci riguardano la scossa in diretta tv di Fano tv il video diventa virale viene ripreso dalle televisioni dai mass media nazionali ebbene ieri ci hanno aperto i TG a carattere nazionale ebbene è stata una delle immagini più trasmesse in quanto più significative è stato ripreso il terremoto in diretta vedevamo proprio i giornali sussultare in questo tavolo ed è stata veramente un'esperienza piuttosto da ricordare l'orologio della torre si ferma alle 7.07 a Mondolfo come è avvenuto a Dammatrice l'orologio è stato cristallizzato al momento della grande paura ma non ci sono stati danni a Fano invece è stata allestita la palestra con lettini da campeggio nessuna famiglia è sfollata però sono state prese queste misure ed è stata questa anche una ulteriore prova per così mettere a punto l'organizzazione di pronto intervento ieri mattina a pochi minuti dalla scossa si è subito riunito il COC il centro operativo comunale dove sono convenute tutte le forze interessate agli aiuti ai pronti intervento ai soccorsi polizia vigili del fuoco tecnici del comune insomma tutti coloro che possono fare qualcosa a croce rossa tutti gli assessorati pronti per intervenire per fortuna non c'è stato bisogno ma è stato un rodaggio importante per poi mettere in efficienza tutto l'apparato di pronto soccorso ed il terremoto fa testa anche sulla solidità del liceo di Urbino la scossa è stata vista da Michele Felici come una verifica naturale per l'ex tecnico del comune l'edificio non va abbattuto e non è pericolante la scossa ovviamente ha svegliato anche Urbino ma non si registrano danni quindi si è sentita distintamente anche nell'entroterra ma addirittura a Firenze a Roma sono giunte segnalazioni di questo terremoto ed ora vediamo come il Corriere Adriatico riporta questa notizia con un titolo molto significativo ci mancavi tu terrore all'alba tremenda scossa a largo di Fano 5.7 dopo il terremoto nel sud delle Marche dopo l'alluvione dopo insomma tutti questi grandi dissesti queste tragedie ci mancava solo il terremoto a largo di Pesaro e Fano ebbe un titolo che proprio dice siamo veramente alla frutta non gliela facciamo più basta dateci un po' di requie le scuole restano ancora chiuse a Fano e a Pesaro quattro famiglie fatto sgomberare nel centro storico di Pesaro lo shock in diretta per noi che abbiamo condotto la rassegna stampa su Fano TV viene richiamata anche dal Corriere danneggiata la Madonnina dei Capuccini per quanto riguarda Pesaro apriamo il Corriere e vediamo anche qui foto significative vediamo la chiesa di Ronco San Baccio dove sono caduti i calcinacci dal tetto proprio nei pressi dell'altare vediamo qui i sottopassi chiusi e qui la gente che esce fuori in strada e appunto dopo la scossa cerca di abbandonare gli edifici e sono pronti addirittura anche le valigie istantanee di un giorno di paura abbiamo qui diverse foto notizie vediamo come cade parte del soffitto nella rianimazione siamo nella rianimazione dell'ospedale Reuniti a Torrette dove la scossa ha fatto venire giù una parte del soffitto ma qui siamo in Ancona e poi ancora i danni che si sono verificati nei supermercati qui ancora un richiamo a quello a come abbiamo dato la notizia su Fano TV Calcinacci in stazione sulla linea adriatica anche la stazione di Ancona ha subito danni mai così forte dal 1930 nel nord delle Marche poteva andare peggio e lo sciame sismico proseguirà attenzione eventi di pari entità non sono esclusi ma dopo le scosse di assestamento della giornata di ieri non sono state parecchie molte non sono state avvertite al momento sembra che la costa si sia placata peso refano scuole chiuse intitola anche il Corriere Adriatico e poi abbiamo qui una foto sfocata ma volutamente sfocata non è sfocata è una foto che ritrae le vibrazioni del terremoto le immagini tremanti appunto di quanto è avvenuto perché la scossa ovviamente ondeggiava di qua e di là durante la ripresa della nostra rassegna stampa le scosse in diretta paura in onda in tv sfollate quattro famiglie abitazioni lesionate nel centro storico di Pesaro dieci le persone sgomberate crepe cedimenti una sessantina agli interventi dei vigili del fuoco dobbiamo anche evidenziare l'impegno dei vigili del fuoco perché ieri il loro centralino è stato subissato di telefonate di chiamate per verificare le crepe che ci sono prodotte nelle abitazioni al momento i vigili non segnalano cose preoccupanti quindi nessun intervento nessuna casa sfollata a Fano Fano trema ma resiste intitola un'altra pagina controlli a tappeto scuole cimiteri biblioteche musei chiusi per precauzione off limits il primo piano del palazzo comunale transennata la stazione dei treni vediamo qui la stazione di Fano transennata avevamo ieri anche un convoglio che si era fermato proprio in stazione in attesa di verifiche della linea ferroviaria se si erano verificati degli spostamenti dei binari oppure dei problemi alla rete elettrica e qua invece abbiamo una foto del COC del centro operativo comunale con gli assessori e tecnici al lavoro sul tavolo le piante il computer per verificare dove intervenire che cosa era accaduto mentre ovviamente i controlli che sono stati ordinate in tutto il territorio erano in azione 15 squadre che verificavano la stabilità degli edifici le notizie giungevano appunto in questo centro dove tutto veniva convogliato ancora titoli la madonnina sfigurata capannoni ora i controlli l'appello del segretario della CGL Rossini per quanto riguarda le fabbriche fabbriche rimaste negli anni 60 la fiume protesta per la mancata per la mancata interruzione dei turni nessuna verifica sembra che alcune aziende abbiano ripreso il lavoro subito dopo e forse era il caso di effettuare qualche verifica ed ora prendiamo il giornale per verificare per relazionare su altre notizie vediamo come nel resto del Carlino si parli ancora di una violenza nei confronti delle donne lei è afghana l'ex marito la minaccia paga o svelo le tue foto in costume è un costume molto castigato che dalle nostre parti proprio non si nota quasi perché insomma è una cosa abituale ma se una foto di una donna in costume anche non succinto viene resa nota in afghanita succede il finimondo e questa donna viene bollata viene svergognata per sempre ecco perché questa donna afghana vittima del marito non ha potuto fare altro che denunciare il suo compagno alle forze dell'ordine voleva rivoleva dei soldi rivoleva 3.000 euro e per rendere più convincente la sua richiesta l'avrebbe minacciata ad inviare nelle chat ai social di amici e parenti le foto di lei in costume da bagno che l'aveva scattata a sua insaputa un costume dicevo molto sobrio ma in questo caso molto molto trasgressivo per la mentalità e la cultura dell'Afghanistan l'uomo un 32enne afgano residente nel pesarese rischia ora il rinvio al giudizio e qua purtroppo un lutto ma l'ore fatale ha 30 anni si era sposata pensate da tre giorni è caduto a Vallefoglia il titolo descrive quanto avvenuto cioè descrive la storia straziante di Mara Angelini sabato le nozze martedì è morta il marito è successo tutto all'improvviso non riesco ancora a crederci e qua vengono descritte le circostanze di quanto è avvenuto e ovviamente il terremoto non demotiva i malviventi dal compiere le loro azioni ladri scatenati tre colpi tra Tavuglia e Pesaro questo è l'articolo hanno preso di mira un panificio e sulle loro tracce si sono posti subito i carabinieri che indagano tre colpi probabilmente fatti dalla stessa gang Fano l'eolico marino spaventa i pescatori ma ci sono rassicurazioni da parte del di Corrado Piccinetti che è il ex direttore del Laboratorio di Biologia Marina di Fano in una intervista il professore e poi responsabile scientifico appunto del laboratorio dice che l'impatto non è fatto trasgressivo insomma non è superiore a quello di analoghi impianti terrestri non creiamo problemi inesistenti e poi un convegno importante che si svolge domani a Fano alle ore 17 nella sala di rappresentanza della fondazione Carifano dove ci sarà un convegno dedicato alle terme di Carignano riapriteci le terme di Carignano un convegno in cui interverranno la presidente del comitato che si batte per la riapertura delle terme Beatrice Morbidoni e poi ancora interverranno i giornalisti il giornalista Silvano Clappis e Raffaella Manna ancora Franco Canestrari Marco Carnaroli e il vice sindaco Cristian Fanesi è sempre un'iniziativa per tenere alto l'argomento delle terme che tutti aspettano la cui riapertura tutti aspettano è veramente un volano come si dice ormai da 30 anni dell'economia fanese consiglio comunale in streaming a Mondolfo un passo in più per la trasparenza le videocamere saranno attive già dalla prossima seduta basta cliccare l'apposito link nel sito web istituzionale è un provvedimento questo che fanno già adotta da tempo però ora anche i cittadini di Mondolfo potranno vedere da casa propria quello che accade in consiglio comunale mentre a San Lorenzo in campo c'è un rimborso tari importante di 21.000 euro per le famiglie in difficoltà ecco come presentare l'istanza e qua vediamo il sindaco dell'Onti il sindaco Davide dell'Onti che illustra il provvedimento vediamo anche quello che ci dice oggi il corriere adriatico affitti richieste quasi raddoppiate dal comune 129.000 euro extra ebbene le domande per avere i contributi d'affitto sono aumentate considerevolmente dal 2021 ad oggi il bando è scaduto al 31 ottobre scorso dunque sono erano 398 nel 2021 e sono 623 quelle del 2022 anche questo è un segno del caro vita e di come le famiglie si trovano in difficoltà vita da pacco Soronco Sambaccio rinasce il bioparco la promotrice Elisa Bilancioni un'agricampeggio e fattoria dedicata qui si vive la natura rispettandola una bella fonte di attrazione per quanto riguarda in modo particolare le famiglie e i bambini mentre si parla di commissioni Carloni guiderà l'agricoltura in Senato la Latini eletta vicepresidente alla cultura i due deputati ed ex assessori regionali in Quota Lega sono stati nominati ieri alla cabera e qui possiamo chiudere il giornale oggi abbiamo parlato diffusamente del terremoto ci sono state altre poco notizie io credo che da domani i giornali riprenderanno la cronaca normale di tutti i giorni lasciando ormai quanto è avvenuto nella giornata di ieri alle cronache che saranno faranno un po' di storia per quanto accade nella nostra costa questo per il momento è tutto vi do appuntamento sempre alle 7 di domani mattina e per le notizie del giorno e per un ulteriore aggiornamento per quanto riguarda i provvedimenti per il sisma alle ore 20.30 nelle TG di Fano TV occhio alla notizia questo è tutto a risentirci per il sisma Grazie.